Tu, fin dai primi momenti, nelle varie trasmissioni a cui hai partecipato come opinionista, sei subito veramente scagliato contro Pamela, dubitando della sua sincerità, quasi che lei fosse complice, insieme ad altre persone, di questa macchinazione. Sei ancora convinto? Anzi, guardiamo che cosa dicevi proprio a live non è la d'Urso. E poi ritorniamo a te. Pamela Prati ha preso in giro te, il tuo pubblico, e tutti noi che siamo presenti. Recitava, si è sempre visto che ha recitato. Se Pamela Prati sta dicendo una bugia, Pamela Prati è finita. Io faccio un appello a Pamela Prati. Pamela, di la verità, sei ancora in tempo. Giovanni, innanzitutto tu l'hai mai vista, Pamela? L'hai mai incontrata? No, ho provato a chiamarla, ho provato tante volte a chiamarla per cercare di parlarci, lei non mi ha mai risposto. Non mi ha mai risposto. Sai Alconso, io penso che se lei è stata veramente truffata o raggirata, dillo come vuoi, fin dal primo momento, e mi darà le prove, e ci darà le prove in questo percorso, Io sono con lei.